Fratelli e sorelle nel Signore, oggi voglio esortarvi ad avere fede considerando i fatti che stanno succedendo in questi giorni, in questi giorni di marzo del 2020, in cui c'è questa ormai dichiarata pandemia del coronavirus e volevo insieme a voi leggere qualcosa che riguarda le scritture in cui vengono citate, viene citata la peste mortifera. Oggi leggeremo, esamineremo il Salmo 91. Questo Salmo è particolare, viene anche cantato, ci sono presenti alcuni passi di questo cantico, di questo Salmo sono presenti in alcuni cantici e in effetti è anche particolare perché la caratteristica principale, per capire bene, che adesso passiamo a leggerlo, ma prima di leggerlo io voglio che voi comprendiate alcune cose, che in questo Salmo parlano tre soggetti, tre persone. Nei primi versi parla il salmista, l'uomo, il punto di vista dell'uomo. Poi ci sono altri versetti in cui parla lo Spirito Santo e dopo, alla fine, negli ultimi versetti invece poi parla chi è a parlare è l'Eterno. Partendo quindi da questi presupposti cercheremo, vi spiegherò, vi porterò, vi esorterò ad avere fede in Dio come è riportato appunto in questa preghiera perché il Salmo è anche una preghiera, il Salmo è un cantico e noi oggi essenzialmente lo prendiamo come una preghiera, un parlare con Dio, un qualcosa che riguarda la nostra comunione profonda con il Signore. Leggiamo quindi il Salmo 91 per intero e poi lo riprendiamo, passo per passo. Chi dimora nel ritiro dell'Altissimo alberga all'ombra dell'Onipotente. Io dico all'Eterno tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Certo, Egli ti libererà dal laccio dell'Uccellatore e dalla peste mortifera. Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti escudo e targa. Tu non temerai lo spavento notturno, né la saetta che vola di giorno, né la peste che va attorno nelle tenebre, né lo sterminio che infierisce in pien mezzodì. Mille te ne cadranno al fianco, diecimila alla tua destra, ma tu non ne sarai colpito. Solo contemplerai coi tuoi occhi e vedrai la retribuzione degli empi. Poiché tu hai detto, o Eterno, tu sei il mio rifugio, tu hai preso l'Altissimo per il tuo asilo. Male alcuno non ti coglierà, né piaga alcuna si accosterà alla tua tenda. Poiché Egli comanderà ai Suoi angeli di guardarti in tutte le tue vie. Essi ti porteranno in palma di mano, che talora il tuo pieno nurti in alcuna pietra. Tu camminerai sul leone e sull'aspide, calpesterai il leoncello e il serpente. Poiché Egli ha posto in me la sua affezione, io lo libererò, lo leverò in alto, perché conosce il mio nome. Egli mi invocherà ed io gli risponderò. Sarò con Lui nella distretta, lo libererò e lo glorificherò. Lo sazierò di lunga vita e Gli farò vedere la mia salvezza. Ora, cosa dice questo Salmo? Questa preghiera, questa preghiera innalzata a Dio. Inizia così, chi dimora nel ritiro dell'Altissimo? Chi alberga all'ombra dell'Onipotente? Chi è che è vicino a Dio? Chi è che Dio protegge? Non sono forse coloro che hanno creduto che Gesù Cristo è il figliolo di Dio. Sono i figlioli di Dio che sono nati di nuovo, che lo Spirito Santo li ha fatti nascere di nuovo? Ecco questi, questi di cui qui è il salmista che parla, qui è il salmista che fa conoscere, no? Chi sono quelli che dimorano, quindi sono dentro, che sono riparati, che sono protetti nel ritiro dell'Altissimo? Chi sono questi? Questo è importante, inizia con la parola chi, perché non tutti, attenzione, sono sotto la protezione di Dio. Gli empi che Dio odia, sui quali vi è la sua ira sopra, non sono, diciamo, protetti dall'Eterno. Come non sono protetti anche quelli che hanno creduto nel Signore, ma lo hanno rinnegato, hanno abbandonato la verità, hanno venduto la verità, l'hanno venduta per un piatto di lenticchi, per il peccato, hanno lasciato la diritta via e si sono incamminati per altre vie, amando questo mondo e amando il peccato. Quindi quelli che si trovano nel rifugio, nel ritiro dell'Altissimo, nel ritiro di colui che ha fatto i cieli e la terra, quelli che dimorano sotto le ali dell'Eterno, sotto la protezione che si trovano proprio nei luoghi che Dio protegge, sono quelli che sono i suoi figlioli, quelli che sono nati di nuovo, che hanno creduto che Gesù Cristo è il figliolo di Dio e sono stati salvati. Ecco quelli, quindi qui il salmista, qui i primi due versetti, è il salmista che parla, qui è l'uomo che parla, è l'uomo che sta parlando e sta dicendo, e ci sta, qui il salmista ci sta facendo conoscere chi dimora nel ritiro dell'Altissimo, alberga, quindi dimora, è sotto la protezione, è sotto l'ombra dell'Onipotente, l'Onipotente colui che può fare ogni cosa, colui l'unico veramente che ti può proteggere da ogni male. Ecco, questi che sono protetti da Dio sono quelli che sono stati salvati, quelli che dimorano, quelli che dimorano in Cristo, quelli in cui Cristo dimora, sono questi coloro che sono vicini a Dio e che Dio protegge, sono nel suo ritiro, nel suo rifugio, sono in quel luogo segreto che nessun male può arrivare per danneggiare queste persone. Queste sono le persone. Ecco, una volta che il salmista ci spinge a riflettere, a capire chi sono quelli che sono all'ombra dell'Onipotente, ebbene, tra questi ci siamo anche noi, perché noi abbiamo creduto che Gesù Cristo è il figliolo dell'Idio Altissimo. Noi abbiamo creduto, il Signore ci ha salvati, lo Spirito Santo ci ha rigenerati spiritualmente e ha messo in noi la fede in Lui. Quindi siamo diventati figlioli dell'Idio Altissimo. Il Dio protegge i Suoi figlioli. Quindi per avere fede in Dio, per riporre tutta la nostra fede in Lui, dobbiamo partire da questo. Chi siamo noi? Chi è l'Idio nostro. Noi siamo coloro al quale il Signore ha fatto misericordia. Egli ci ha scritto nel libro della vita prima della fondazione del mondo e ci ha salvati. È venuto il momento in cui ci ha salvati. E se Lui ci ha acquistati e trasportati dal regno delle tenebre al regno del suo amato figliolo, di certo in mezzo alla peste mortifera non ci abbandonerà. Quindi è importantissimo ripartire dal punto iniziale con cui noi abbiamo cominciato a camminare con il Signore. Abbiamo cominciato a camminare con il Signore dal momento in cui Egli ci ha salvati, ci ha rigenerati spiritualmente. Da quel momento noi abbiamo riposto la nostra fiducia, la nostra fede in Dio ed ora siamo sotto le sue ali. Noi abitiamo e dimoriamo in Cristo Gesù. Dimoriamo in Dio perché noi dimoriamo in Cristo. Cristo dimora in noi e quindi in noi dimora anche il Padre. E il Padre è colui che ha steso le sue ali su di noi e ci protegge. E dobbiamo riporre in Lui la nostra fede. Una delle cose che il salmista, quindi l'uomo, ci esorta a fare è scritto al secondo versetto che dice Io dico all'Eterno, tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Sì, perché dopo che noi siamo stati salvati, abbiamo conosciuto il Signore, conosciamo la sua fedeltà, conosciamo la sua misericordia, conosciamo anche che Egli talvolta ci ha castigati per amore nostro, perché ci ama. Lo conosciamo. È una cosa che noi abbiamo detto e dobbiamo continuamente dire e credere. È questa che il salmista ci esorta a fare, come lui stesso ha fatto in questa preghiera. Io dico, io dico all'Eterno, tu sei il mio rifugio, non un altro, non un uomo, non uno Stato, non un esercito, non dei cavalli e dei carri, ma sei tu colui che è il mio rifugio, sei tu, non è un'altra cosa. Io ripongo tutta la mia fiducia nell'Altissimo, nell'Iddio Onnipotente che ha fatto i cieli e la terra e che ha anche mandato il suo figliolo a morire per i nostri peccati. E il terzo giorno poi è risuscitato e credendo in questo Evangelo che noi siamo diventati figlioli di Dio. Ed è qui abbiamo ricevuto quella fede che ci dà la certezza di essere salvati. La certezza che noi abbiamo avuto di essere salvati la dobbiamo continuare ad avere. Bisogna continuare ad averla, ma ad averla non solo per quanto riguarda la vita eterna, ma continuare ad averla anche per il fatto che il Signore ha steso le sue ali, ha steso la sua mano su di noi. Egli ci protegge da ogni male. Egli è su di noi, nessun male ci può cogliere. Noi abbiamo fatto di Dio il nostro rifugio. Non ci dobbiamo creare un rifugio nostro, ma perché non ci proteggerebbe. Noi ce l'abbiamo già. Il nostro rifugio è l'eterno. Lo dobbiamo riconoscere e lo dobbiamo dichiarare. Chi è il tuo rifugio? Il mio rifugio è la mia fortezza, il mio alto ricetto, dove nessuno può giungere ad attaccarti, a distruggerti, ad abbatterti. Niente ti può abbattere, perché l'eterno è il tuo rifugio, è qualcosa su cui nessun male può arrivare ad abbatterti. E da quando abbiamo creduto, noi abbiamo riposto per fede in Dio la nostra fiducia ed è Lui, abbiamo fatto di Lui il nostro rifugio. Questo è quello che l'uomo deve dire. Questo è quello che l'uomo ha ricevuto da Dio. Ha ricevuto la nuova nascita, è diventato un figliolo di Dio e quindi ha riposto in Lui la sua fiducia. E questi due versetti sono le parole pronunciate dal salmista, dal punto di vista dell'uomo. Queste sono le nostre parole, devono essere queste sono le nostre parole. Ma dal versetto 3, guardate come continua, dice, certo, Egli ti libererà. Egli chi? Si riferisce all'Eterno. Ti libererà a chi? A te che hai fatto quelle richieste. Quindi qui sta parlando un'altra persona, diversa da quella che ha parlato nei primi due versetti. Chi è? Chi è che c'è tra noi e a noi che abbiamo creduto in Gesù Cristo? È l'Eterno. Chi c'è dentro di noi? C'è lo Spirito Santo. Che cosa fa lo Spirito Santo? Quando noi leggiamo le scritture, cresciamo nella conoscenza della parola, riponiamo in Dio la nostra fiducia? Chi è che ci conferma che quello che stiamo dicendo, che quello che stiamo facendo, che quello in cui noi crediamo e riponiamo la nostra fiducia, chi è quella persona che ci fa capire che le cose stanno proprio così e ci conferma nelle cose che stiamo facendo di bene? È lo Spirito Santo che abita dentro di noi. E a quei credenti che hanno detto che dell'Eterno fanno il loro rifugio, ecco cosa dice lo Spirito Santo dal versetto 3. Certo, Egli, cioè l'Eterno, ti libererà. Quindi lo Spirito Santo ti sta confermando. Tu hai fatto di Dio il tuo rifugio? E qui dice certo, Egli ti libererà dall'accio dell'uccellatore e dalla peste mortifera. Quante persone ci tendono delle trappole, uomini, uomini malvagi, pericoli che noi non conosciamo, pericoli che noi non vediamo, la stessa peste mortifera, la stessa peste mortifera che si muove nell'aria, che noi non vediamo, che noi non conosciamo. Quella peste, quella peste lì, lo Spirito Santo sta dicendo, siccome tu hai fatto dall'Eterno il tuo rifugio, nessun nemico ti colpirà, nessuna peste ti colpirà, nessun male ti colpirà. Lo Spirito Santo lo sta confermando, sta dicendo sì, è così, tu hai voluto il Dio come tuo rifugio, lo hai voluto tu. Ebbene, lo Spirito Santo conferma, sì, Lui, l'Eterno, è colui che ti protegge da ogni male. E continuando dice, dice, Egli ti coprirà con le sue penne, sempre riferito all'Eterno, lo Spirito Santo dice che l'Eterno ti ricoprirà a te, uomo, che sei diventato suo figliolo, ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti escudo e targa. Quindi lo Spirito Santo conferma, siccome tu hai detto che l'Eterno è il tuo rifugio, allora lo Spirito Santo conferma, sì, è vero, se tu hai creduto questo, se tu lo credi con tutto il cuore, se tu hai fede nella parola che hai ricevuto nel tuo cuore, nella parola che tu leggi, se tu hai fede in Gesù Cristo, ebbene, tu avrai come colui che ti proteggerà da ogni male, avrai l'Eterno. E continua ancora lo Spirito Santo a parlare e dice tu non temerai lo spavento notturno, né la saetta che vola di giorno, né la peste che va attorno nelle tenebre. Perché ci sono pericoli che noi non vediamo nella nostra vita, ogni giorno noi potremo, magari non ce ne siamo neanche accorti, ma il Dio ci ha scampato da tanti mali, da tante sventure. Un giorno il Signore ci farà sapere da quanti mali ci ha scampati, anche da quante peste mortifere che si sono avvicinate a noi, ma non ci hanno colpito. Perché? Perché abbiamo fatto dell'Eterno il nostro rifugio. Cosa succede quando si fa dell'Eterno del suo rifugio? Quando una persona fa di Dio il suo rifugio, accade esattamente come spiega in Giobbe. Andiamo a leggere in Giobbe, ai primi capitoli. sta scritto per farvi capire cosa vuol dire essere all'ombra dell'Eterno, protetti da ogni male. Questo vuol dire. Quando Satana si presentò, quindi il nostro peggior nemico, il peggior nemico di Dio e anche il nostro peggiore nemico, Satana, quando Satana si presentò davanti all'Eterno, l'Eterno gli mostrò Giobbe. E tra le cose che Satana disse di Giobbe ci sono queste cose. al capitolo 1 di Giobbe, al versetto 9, e Satana rispose all'Eterno, leggiamo dal versetto 8, dal versetto 8, e l'Eterno disse a Satana, hai tu notato il mio servo Giobbe? Non c'è un altro, non ce n'è un altro sulla terra che come lui sia integro, retto, tema il Dio e fugga il male. E Satana rispose all'Eterno, e egli forse per nulla che Giobbe teme il Dio? Non l'hai tu circondato di un riparo, lui, la sua casa e tutto quel che possiedi. Vedete? Il Dio mostra, a Satana mostra Giobbe come un suo servitore, come uno che temeva il Dio e che aveva riposto la sua fiducia in Dio. E Satana cosa dice di questo uomo? Dice questo che Dio lo aveva circondato di un riparo, lui, la sua casa e tutto quello che lo riguardava, capite? Quando un uomo fa di Dio il suo rifugio e ripone in lui la sua fiducia, è circondato di un riparo, alcuni hanno visto attorno ai credenti che volevano fargli del male, c'era un muro di fuoco o degli angeli attorno, il maligno non gli ha potuto fare nulla, perché queste persone confidavano in Dio. Giobbe è stato circondato di un riparo, vedete? Noi dimoriamo, dimoriamo nel ritiro, nella fortezza, in quel luogo segreto, in quell'asilo, in quel luogo sacro che Dio protegge da ogni male. Noi alberghiamo, dimoriamo lì, dimoriamo in Cristo e stiamo vivendo sotto le ali, in quel ritiro sotto le ali dell'Iddio Altissimo. Quindi lo Spirito Santo ci sta esortando a non temere, non bisogna temere nulla, nei pericoli che vediamo e nei pericoli che non vediamo. Non dobbiamo tremare, dobbiamo solo temere Dio, fuggire il male e temere Dio. Questo dobbiamo fare, dobbiamo attenerci soltanto a temere Dio, ma non a temere i pericoli che possono colpirci, ma anche un giorno, un giorno ce ne andremo da questa carne, da questa tenda, entreremo nella vita eterna, entreremo nel regno dei cieli, quindi prima o poi qualcosa ci succederà perché dobbiamo andarcene, quando il Signore avrà stabilito, quando Lui vorrà. Ma quello che noi comunque non dobbiamo fare mai è temere che ci accada qualcosa che sia fuori dal controllo di Dio. Quello che succederà comunque è sotto il controllo di Dio, avverrà esattamente come Dio vorrà. Ora se il nostro Dio, se colui che ci protegge, colui nel quale noi abbiamo riposto la nostra fiducia, è colui che governa tutte le cose, di che cosa dobbiamo temere? Di quale male dobbiamo tenere? Perché Egli è colui che ci protegge, ci protegge da tutti i nostri nemici, ci protegge dalla peste mortifera, ci protegge dai virus, dai batteri, da tutto quello che si muove. Egli è Dio, noi non dobbiamo fare come fanno i pagani che muoiono di paura perché temono che possano essere colpiti e possono un giorno andarsene da questa tenda e saranno gettati all'inferno. Noi sia se viviamo e sia se ce ne andiamo da questo corpo, noi saremo sempre col Signore. Quindi di che cosa devi temere? O vivi qui, o vivi nel Regno dei Cieli, tu appartieni a Cristo, tu appartieni a Dio, l'hai dichiarato, hai testimoniato, hai annunziato che sei stato salvato. Quindi non devi temere nulla. Tutte queste pestilenze, questa può essere la prima che verrà di tante altre, non sappiamo. Comunque Gesù lo aveva annunciato. È necessario che ci siano delle carestie, che ci siano delle guerre, ma è necessario anche che vengano delle pestilenze, cioè delle malattie che possono portare alla morte delle persone. Come questa di cui tutti oggi tutti tremano davanti a questa influenza un po' più aggressiva, che però comunque può portare quelli più deboli, può portare quelli più deboli veramente a morire. Ma noi non dobbiamo temere questo. Non lo dobbiamo temere perché? Perché lo Spirito Santo dice tu hai fatto di Dio il tuo rifugio, quindi non temere. Qui dice tu non temerai lo spavento notturno. Il buio non ti deve spaventare. Quello che tu non conosci non ti deve spaventare perché l'Eterno lo conosce. L'Eterno conosce i pericoli. L'Eterno è colui che ti protegge. Ti protegge da tutti i pericoli, anche da quelli che tu non riconosci. È chiaro che se lo vediamo, se vediamo una macchina che ci sta venendo contro, ci sta investendo, spostiamoci. Non è che noi dobbiamo stare fermi lì e aspettare che ci investa per vedere se Dio ci protegge anche dalle macchine. Se lo vediamo, spostiamoci. Però da tutti quelli che noi non vediamo comunque il pericolo, che non ce lo cerchiamo e che ci può comunque colpire, noi tutte queste cose non le dobbiamo temere. Perché il Signore è il nostro rifugio, Egli ha steso le sue ali su di noi e ci protegge da ogni male. E noi dobbiamo avere fede in questo. La fede cos'è? La fede è certezza di cose che si sperano. Noi speriamo, speriamo che il Signore ci protegga da ogni male e per questa speranza noi siamo sicuri per mezzo della fede. E qui lo Spirito Santo lo sta confermando. E così, tu hai fatto di Dio il tuo rifugio, il Signore ti proteggerà. Senza ombra di dubbio, attenzione! Non lo devi dubitare mai, perché è una cosa certa. Mille te ne cadranno al fianco e diecimila alla destra, ma tu non ne sarai colpito. Talvolta ci potremmo trovare anche, potrebbe accadere anche con questa pestilenza o con altre pestilenze che verranno in un altro momento, oppure anche in guerra. Noi potremmo assistere a persone che ci moriranno alla nostra sinistra, persone che ci moriranno alla nostra destra, che sono vicini a noi, ma tu non ne sarai colpito. Cioè, il male si avvicinerà a te, può anche avvicinarsi, ma tu non devi temere. Perché quelli che Dio ha stabilito, quelli cadranno, ma quelli che Dio ha stabilito che non debbano cadere, quelli rimarranno in piedi e nessun male li coglierà. Quindi, la cosa importante è che il credente, per fede, rimanga in piedi in mezzo a tutte queste difficoltà, in mezzo a tanta gente che trema di paura. Il credente deve stare fermo, come una roccia, saldo, senza temere nulla. E adesso è in questi momenti di giudizi di Dio che si vede il vero credente. Quelli che hanno coraggio, quelli che hanno fede in Dio, quelli che non tremano davanti a nulla, perché sanno che il loro Dio sta operando. E Dio non sbaglia, mira. Se deve colpire qualcuno, lo colpisce. Se deve scampare un altro, lo scampa. Non sbaglia. Quindi, se uno non si sente a posto davanti a Dio, è venuto il momento, perché questa pestilenza richiama anche all'ordine, alla santità i suoi figlioli. Gli dice, vada bene, sistemati, sistema ogni cosa con il Signore, riconciliati con Lui. Se hai qualcosa, qualche pendenza con il Signore che ancora non hai risolto nella tua vita, è venuto il momento, perché questo male potrebbe coglierti. Coglierti perché tu non hai chiesto perdono a Dio e non hai abbandonato il tuo peccato. Potresti essere quindi tra quelli che cadono. Allora tu riconciliati con Dio, perché Dio è misericordioso, ti perdonerà i tuoi peccati e ti ristabilirà davanti a Lui e allora non dovrai temere nulla, perché Lui è Lui che ti protegge dopo. Noi siamo infedeli, ma Lui invece è fedele, Lui rimane fedele come scritto. Tu non ne sarai colpito, solo contemplerai coi tuoi occhi e vedrai la retribuzione degli empi. Vedete? Al versetto 8, i santi cosa vedono? Attenzione, non è una cosa bella, non è che è una cosa che ci piace vedere gli empi colpiti, non ci deve far gioire questo, anzi, dobbiamo fare cordoglio. Ma tu vedrai proprio questo. Il credente vedrà colui che ha riposto in Dio la sua fiducia e non trema davanti a nulla, vedrà la retribuzione che Dio manderà contro chi? Contro gli empi, contro i ribelli, contro quelli che non ubbidiscono la sua parola, contro quelli che non gli danno gloria, contro quelli che si oppongono alla sua volontà. Quelli riceveranno la loro retribuzione, quelli saranno colpiti dai giudizi che Dio lancerà contro di loro e i credenti lo vedranno questo. Qui ha detto tu lo vedrai, tu hai confidato in Dio, mille te ne cadranno alla tua sinistra, diecimila alla tua destra, quindi vedrai la retribuzione che riceveranno agli empi. Ma tu devi avere questa certezza assoluta perché hai fatto di Dio il tuo rifugio? Tu non ne sarai colpito e questa fiducia che devi avere nel tuo cuore non devi tremare davanti a nulla, devi avere questa fiducia. Poiché tu hai detto, o eterno, vedete ancora lo ribadisce, qui ancora sempre lo spirito santo che parla al versetto 9, poiché tu hai detto, o eterno, tu sei il mio rifugio. Quindi quando preghiamo ricordiamoci nella prima parte soprattutto della preghiera, ricordiamoci chi siamo noi e a chi ci stiamo rivolgendo. Chi è colui che stiamo pregando nel nome di Gesù? Noi stiamo pregando l'Eterno, l'Idio Altissimo, colui che ha fatto i cieli e la terra, il mare, tutto ciò che è in essi, colui che per liberare il suo popolo di Israele dall'Egitto ha aperto il Mar Rosso con il soffio della sua bocca. Ecco chi è il nostro Dio. Questo è l'Idio nel quale noi confidiamo. E siccome abbiamo detto, punto, invochiamo il Dio nella nostra preghiera dicendo, tu sei il mio rifugio, dicendo così che l'Eterno è il tuo rifugio e lo devi dire in preghiera, lo devi dire ogni volta che ne hai la possibilità, tu hai preso l'Altissimo per il tuo asilo. Cioè, dicendo che l'Eterno è il tuo rifugio, hai detto che il luogo segreto non contaminato, il luogo che non può essere contaminato né attaccato in nessuna maniera è l'Eterno, quindi l'Eterno è il tuo asilo, il luogo, quel luogo sacro praticamente, che non può essere toccato da nulla e da nessuno. Hai detto che l'Eterno è il tuo rifugio e lui diventa il tuo asilo. Nulla ti potrà toccare, nulla ti potrà incogliere. Male alcuno non ti coglierà, né piaga alcuna si accosterà alla tua tenda. Se il Signore ti protegge, nessun male ti potrà cogliere, non ti coglierà nessun male perché il Dio tiene il controllo di tutte le cose. Gesù ha detto che non cade a terra un passero, un uccellino, il cui valore è minimo in questa terra, un passerotto. non ne cade uno se non è secondo la volontà di Dio. Ora, se Dio non fa cadere un passerotto senza che sia sua volontà, è chiaro che nessun uomo cade, nessun uomo muore, nessun uomo viene colpito da malattie o da altri flagelli che non sia nella sua volontà. Questo è. Conoscendo le Sacre Scritture, conoscendo la parola di Dio, noi comprendiamo come stanno le cose, le veniamo a conoscere e quindi la nostra fede cresce, la nostra fede cresce e riponiamo sempre di più tutta la nostra fiducia nel Signore. Quindi di che cosa dobbiamo temere noi oggi? Sì, arrivano rumori, rumori di pestilenze, i morti aumentano, aumentano i ricoverati, aumentano i contagiati, aumentano, aumentano, aumentano sempre di più. Ma il nostro cuore non deve essere turbato, il nostro cuore non deve essere smosso, perché noi siamo sotto le ali dell'Eterno. Quello che stiamo vedendo è la retribuzione degli empi. Ma l'Eterno protegge il suo popolo, come poi il Signore ha fatto in Egitto. Quando in Egitto furono mandate le dieci piaghe, quindi Dio ha dato sfogo alla sua ira contro il popolo d'Egitto, che non faceva uscire il suo popolo di Israele, Israele non era colpito dalle sue piani. Cioè le ali di Dio proteggevano da ogni male il popolo di Israele e i suoi giudizi cadevano contro i nemici di Israele, contro l'Egitto, contro il popolo dell'Egitto. E Dio non si sbagliava, e Dio non si sbaglia, e Dio non fallisce la sua mira quando vuole castigare qualcuno. Però bisogna sempre stare attenti e attenzione, perché dobbiamo essere a posto con Dio. Quello che dobbiamo avere è la comunione con Dio, quella profonda, quel dimorare in Cristo sentendo una presenza, la presenza di Dio in preghiera, studiando le Sacre Scritture. Ci dobbiamo impegnare, perché ormai abbiamo visto le situazioni, la situazione di questo mondo andrà ormai sempre peggiorando. Io ho visto in questi anni sempre un peggioramento. Quindi se non si vede all'orizzonte un miglioramento, cioè il peccato aumenterà tanto, aumenteranno anche i castighi di Dio e i suoi giudizi sugli empi. Quindi noi non dobbiamo, perché se noi ci allontaniamo dalla verità, ci sviamo, se ci facciamo prendere dalla stanchezza, e sì perché c'è anche la stanchezza, non ce la fa più a pregare, non ce la fa più a studiare le scritture, a santificarsi, ebbene allora diventerai anche tu uno di quelli che può essere possibilmente colpito dai giudizi di Dio, perché hai abbandonato la verità, hai abbandonato la retta via. E quindi devi stare attento, riconciliati quindi davanti a Dio, riconciliati con il Signore prima che sia tardi. E comunque vedendo che le difficoltà adesso aumenteranno, le pestilenze, le carestie, le guerre possono anche crescere, noi dobbiamo riporre sempre di più la nostra fiducia nel Signore. E il nostro cuore non deve smarrirsi, perché il Signore ha il controllo di ogni situazione che è su questa terra, su tutto il suo creato. Nulla gli sfugge. Tu hai preso l'Altissimo per il tuo asilo, ma l'alcuno non ti coglierà, né piaga alcuna s'accosterà alla tua tenda. Poiché Egli comanderà ai Suoi angeli, perché attorno a noi ci sono, c'è un muro di fuoco, anche degli angeli attorno a noi, che ci proteggono da ogni male, perché abbiamo detto che l'Eterno è il nostro rifugio, perché abbiamo creduto che Gesù Cristo è il figliolo di Dio. Dimoriamo in Lui e Lui dimora in noi. Dicendo questo, il Signore ci protegge da ogni male. Manda i Suoi angeli a proteggerci. Poiché Egli comanderà i Suoi angeli di guardarti in tutte le tue vie, badate bene, non solo in alcune vie, ma in tutte le tue vie tu sarai guardato da ogni male. Essi ti porteranno in palma di mano, che talora il tuo pie non urti in alcuna pietra. Tu camminerai sul leone e sull'aspide, calpesterai il leoncello e il serpente. Niente potrà colpirti e farti del male, nulla, perché tu hai fede in Dio e hai detto che Dio è il tuo rifugio. Questo passo è conosciuto anche dal nostro nemico. Questo passo è stato citato da Satana contro Gesù per tentarlo, per farlo cadere, per fargli fare qualcosa che non era secondo la volontà di Dio. Infatti leggiamo in Matteo 4,6, questo per farvi capire com'è importante, com'è incoraggiante le parole, come sono incoraggianti per i santi le parole del Salmo 91, che sono state citate, quindi ben conosciute, anche dal maligno, perché il maligno lo sa che tutte quelle parole si avverano, lui lo sapeva che si avverano. E le ha citate quelle parole vere, parole certe, le ha citate pure lui per far sbagliare, per far cadere in errore, per far fare a Gesù qualcosa che non era secondo la volontà di Dio, per far sì che Gesù si mettesse in pericolo da solo e così trasgredendo i comandi di Dio per farlo sbagliare. Ma Satana ha citato quei passaggi, quei passaggi che si avverano, vadate bene, che sono veri quindi, è vero che il Dio manda, ci sono attorno a noi degli angeli che ci proteggono. Ma ora leggiamo Matteo 4, versetto 5. Allora il diavolo, quando Gesù era tentato da Satana, dopo che era stato battezzato in acqua da Giovanni Battista, allora il diavolo lo menò secco nella santa città e lo pose sul pinnacolo del tempio. Egli disse, se tu sei figliol di Dio, gettati giù, poi che sta scritto? Egli darà ordine ai suoi angeli intorno a te, ed essi ti porteranno sulle loro mani, che talora tu non urti col piede contro una pietra. Qui Satana cita il Salmo 91, da qui vedete che queste parole danno ancora più importanza e ci portano a confidare in quelle parole, quelle parole che in un certo senso, citandole, era citandole, Satana a Gesù significava che le prendeva per vere. Era l'intento qui che era sbagliato del diavolo, voleva far sbagliare Gesù, non perché quei passi non fossero veri, ma perché l'adempimento in quel caso sarebbe stato sbagliato, cioè Gesù non doveva mettersi in pericolo da solo, gettandosi dal pinnacolo del tempio, perché non era volontà di Dio, quindi non doveva mettersi in pericolo da solo e non doveva fare qualcosa che non era secondo la volontà di Dio. Questo è tentare Dio, no? Che poi oggi ci sono anche quelli che dicono tentare Dio e riunirsi nel culto ai tempi della pestilenza, ma se il Salmo 91 ci sta insegnando, ci ha insegnato che nessuna pestilenza ci può colpire perché abbiamo fatto di Dio il nostro rifugio, per quale motivo io non devo riunirmi con i miei fratelli a pregare Dio nel locale di culto o nelle case, capite? Quindi questa è una manifestazione di fede. Chi crede veramente che Dio lo protegge da ogni male e ha la possibilità di riunirsi con i fratelli per pregare il Signore, rendere un culto al Signore, fa bene a farlo, non sta tentando Dio, come certi seduttori di menti dicono. Ma questi seduttori parlano solo per giustificare la loro mancanza di fede e la loro mancanza di coraggio, perché con la fede viene anche il coraggio, badate bene, quando si è figlioli di Dio viene la fede, si fortifica il coraggio, abbiamo tutte quelle cose che magari prima non avevamo, ma in Dio diventiamo forti, perché Dio ci dà la sua forza, ci fa partecipi di tutta la sua potenza e della sua forza. E questo fece Satare, qui ci fa capire, vedete cosa dice, se tu sei figliolo di Dio gettati giù. Noi non abbiamo dubbi, noi siamo figlioli di Dio, noi crediamo in quei passi biblici, in quel passo che anche Satana ha citato, il Signore, però non ci mettiamo noi in pericolo da noi stessi, noi non cerchiamo di fare qualcosa che non è secondo la volontà di Dio, non è che andiamo in giro a cercare serpenti velenosi, li prendiamo in mano per far vedere che c'è serpenti, perché c'è scritto anche quello, quindi per adempiere quella parola noi ci mettiamo in pericolo, ma facciamo qualcosa che non è secondo la volontà di Dio, capite? Faremmo, se facessimo una tale cosa, faremmo qualcosa che non è secondo la sua volontà. E ci sono taluni che l'hanno fatto per spettacolarizzare la cosa, per rendere uno spettacolo di un passo biblico, prendevano in mano dei serpenti molto velenosi per far vedere che quel passo si adempiva, però alcuni sono stati morsi e sono morti, loro sì che hanno tentato Dio, non i credenti oggi che, benché ci sia una pestilenza in atto, benché ci sia un'influenza aggressiva, se si riuniscono per pregare Dio, come sempre hanno fatto, sapendo che Dio li protegge da ogni pestilenza, se lo continuano a fare non stanno tentando di Dio, l'hanno sempre fatto, è secondo la volontà di Dio, perché riunirsi per pregare tra fratelli, anche ai tempi delle pestilenze, è una cosa favorevole, è una cosa che Dio vuole che si faccia. Non è che ci dobbiamo riunire solamente, non è che i fratelli hanno la possibilità di riunirsi solamente quando va tutto bene e non c'è nessuna pestilenza in giro, anzi, anzi, io direi che nei momenti di difficoltà bisogna riunirsi ancora di più per chiedere anche misericordia per tutta questa nazione, chiedendo misericordia a Dio di stornare la propria ira da questa nazione che si sta scagliando. Si è ormai, il Dio ha lasciato andare la sua ira contro questa nazione, la sta spaventando. E noi, se i credenti non si comportano come sale della terra e luce del mondo, chi lo potrà poi mai fare? Se anche il sale diventa insipido, con che cosa noi daremo sapore a questa terra? Se anche i credenti si rifiutano di riunirsi per pregare, di invocare Dio, di intercedere per i peccatori, chi lo potrà fare? Non i pagani, non gli atei, non gli idolatri, che non servirà a nulla se non lo fa la Chiesa. La Chiesa è chiamata a vivere con coraggio, con forza, con potenza e con fede tutti i momenti della sua vita. I giorni di vita che Dio ci dà li dobbiamo vivere in Cristo in tutti i modi come sono scritte nella parola, con forza e con coraggio e con fede. Anche nei momenti più difficili, anche quando ci sarà la perseguzione dovremo incontrarci con i fratelli, avere comunione. Come poi facevano anche i tempi del fascismo quando i credenti pentecostali erano grandemente perseguitati, incarcerati, esiliati, messi a morte, picchiati, torturati. Quindi si riunivano, ma non per tentare Dio, infatti erano grandemente benedetti. Dio li benediceva grandemente, sì erano perseguitati, perché attenzione Dio ci scampa dai suoi mali, però ci mette anche alla prova, perché queste pestilenze sono anche una prova per i santi, per vedere se hanno veramente fede. Infatti alcuni stanno venendo meno alla prova, ma perché? O non hanno fatto di Dio il loro rifugio, non l'hanno conosciuto, non sanno chi è, oppure hanno cominciato a vivere nel peccato. Quindi quelli lì certo che non avranno la protezione di Dio e tremano, tremano davanti ai suoi giudizi, tremano davanti ai suoi giudizi di Dio. Quindi Dio manda la prova come anche può mandare la persecuzione. Cioè il Dio con i suoi giudizi non colpisce la Chiesa, però può permettere che la Chiesa sia messa alla prova dalle persecuzioni ad esempio. Quindi questo lo dobbiamo sapere anche questo. Infatti quando verrà l'anticristo una delle cose che succederà sarà quella di che lui perseguiterà la Chiesa. I giudizi che scenderanno sulla terra non colpiranno la Chiesa, però la Chiesa sarà permesso che venga perseguitata, quindi moriranno. Dei santi moriranno prima della venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Moriranno perché perseguitati, ma non perché scendono dai giudizi di Dio. I giudizi di Dio sono la retribuzione degli empi. E i santi si trovano in mezzo e lo vedremo, lo stiamo vedendo come Dio retribuisce gli empi. Perché di certo Dio non sta colpendo i santi, sta colpendo i malvagi, sta colpendo gli empi, quelli che non si sono attenuti alla sua parola. Infatti abbiamo visto che ad esempio in Corea del Sud è stata colpita anche una Chiesa evangelica, quella di Dominique Yeo, e sappiamo che non è da Dio, non è da Dio quell'uomo. E quindi qualche credente, in qualche comunità ci può essere qualcuno colpito, però attenzione, non è che Dio non è stato in grado di proteggerli. È proprio che se vengono colpiti è perché hanno qualcosa da rendere conto a Dio. E quindi vengono colpiti giustamente. Quindi noi badiamo a metterci a posto con il Signore e dopo che siamo a posto con il Signore dobbiamo essere fermi, tranquilli, sereni, come una roccia nelle alte montagne. Devono vederci così. E adesso che guardano i credenti, quelli del mondo, guardano i credenti in queste situazioni difficili. E in queste situazioni difficili la fede in Dio deve emergere con sempre più forza, affinché vedano che le nostre non sono solo parole, quando diciamo amo in Dio e ho fede in Dio. Noi non tremiamo come tremano gli altri del mondo. Non tremiamo come loro. Noi confidiamo nel Signore. Ora, dal versetto 14, ritornando al Salmo 91, qui cambia oratore, cambia persona che parla. anche al versetto 14. Quindi abbiamo visto i primi due versetti, ha parlato il salmista, ha parlato l'uomo. Quelle parole dell'uomo giuste, dette giustamente, sono state confermate ampiamente poi dagli altri versetti che abbiamo letto, che sono parole pronunciate dallo Spirito Santo. Poi dal versetto 14 parla l'Eterno. Quindi è l'Eterno. Avendo ascoltato il discorso che ha fatto il salmista, avendo ascoltato la conferma che ha dato di quelle parole lo Spirito Santo, ecco che interviene direttamente qui in questi versetti a parlare l'Eterno che dice queste parole. Poiché egli apposta in me la sua affezione, io lo libererò, lo leverò in alto perché conosce il mio nome. Egli mi invocherà ed io gli risponderò. Sarò con lui nella distretta. Lo libererò e lo glorificherò. Lo sazierò di lunga vita e gli farò vedere la mia salvezza. Vedete, dopo che ha parlato il salmista, dopo che lo Spirito Santo ha confermato le cose dette dal salmista, quindi dentro di noi, noi quando annunziamo qualcosa di vero abbiamo dentro di noi che è lo Spirito Santo che ci conferma che abbiamo detto la verità, che ci conferma quello che abbiamo creduto. E poi c'è la conferma ulteriore dell'Eterno che dice egli, cioè il salmista, ha posto in me la sua affezione, io lo libererò. Vedete, l'Eterno lo sta promettendo, è una promessa dell'Eterno, non può venire meno, il Dio è fedele. Quelli che sono infedeli sono gli uomini. Ma l'Eterno è fedele, non può venire meno alle sue parole, non le può rinnegare. Quindi avverrà sempre che se un figliolo di Dio griderà a Dio e gli chiederà liberazione, sarà liberato e scampato da ogni male. È una cosa certa, assoluta, non si può dubitare. Capite? Il dubbio, non c'è spazio per il dubbio, perché qui è l'Eterno in prima persona che sta parlando. E l'Eterno non ha mai mentito e mai mentirà. Non c'è nulla che possa impedire la mano di Dio di operare. Quindi di che cosa temere? Lo sta dicendo. E nella scrittura c'è scritto, va bene, ti sei comportato male, ti sei condotto male, va bene. Però la scrittura ti dice anche cosa devi fare per ristabilire, per essere ristabilito davanti a Dio. Quindi seppure tu, figliolo di Dio, ti sei condotto male, ti stai conducendo male, confessa i tuoi peccati al Signore, inginocchiati davanti a Lui, confessa e abbandona il tuo peccato. Ed Egli che è fedele e giusto, che non può rinnegare le sue stesse parole che sono scritte, lui ha promesso che ti avrebbe perdonato se tu abbandoni il peccato e lo confessi. Lo confessi nel nome di Gesù Cristo, il suo sangue ti purifica da ogni peccato. E vieni quindi ristabilito con certezza, senza ombra di dubbio, sei ristabilito davanti a Dio. Quindi il Dio ti proteggerà da ogni male. Lui stenderà le sue ali su di te e ti proteggerà, non ti accadrà nessun male. E qui è l'Eterno che lo sta confermando. Lo leverò in alto perché conosce il mio nome. Vedete, qui non sta parlando di persone che non conoscono il Dio, capite? Qui si sta parlando di credenti. Ecco quindi com'è importante che noi siamo figlioli dell'Iddio Altissimo, nati di nuovo per volontà di Dio, per opera dello Spirito Santo. Perché tramite l'esperienza della nuova nascita siamo diventati figlioli dell'Iddio Altissimo. E diventati figlioli, siamo entrati nel suo rifugio, nel suo ritiro. ci protegge da ogni male, ci protegge. Ma senza ombra di dubbio, senza dubitare mai, senza dubitare mai, Egli ci proteggerà tutta la nostra vita. Finché saremo attaccati al Signore Dio, Egli ci proteggerà da ogni male. E questo lo ha visto bene anche il maligno, il diavolo, l'ha visto anche su Giobbe. Lo ribadisco ancora. Ha visto che attorno a Giobbe, Dio aveva protetto Giobbe da un riparo. Non lo poteva fare, non gli poteva fare nulla. Come faceva Satana a sapere che lo aveva protetto da un riparo? Sicuramente avrà provato a fargli del male. Eh sì, ha provato a fargli del male e non ci è riuscito. E qui si è accorto che Dio lo aveva circondato di un riparo. Lui, la sua famiglia e tutto quello che possedeva. Quindi vedete, quando qualcuno è gradito a Dio, il Dio stende la sua benedizione anche alla sua famiglia, anche a tutto quello che lui possiede, anche all'azienda per cui lavora. Come la scrittura dice, erano benedette le nazioni anche addirittura che ospitavano certi servi di Dio. Questo per farvi capire, per ricordarvi attraverso le scritture quanto il nostro Dio è grande. Egli mi invocherà ed io gli risponderò. Quando noi preghiamo il Signore, dovete sapere che il Signore ci risponde, che il Signore ci ascolta. E quando non ci risponde non vuol dire che lui non ci abbia ascoltato. Quando non ci esaudisce non vuol dire che lui non gradisca la preghiera. Vuol dire che magari ha altri piani, altri disegni. Non quello. Non rientra quello magari nella volontà di Dio. Però il Signore ascolta ogni volta che tu lo invochi, ogni volta che tu ti inginocchi e alzi le mani all'Eterno e gridi a Lui. Lui è là presente, il Signore è là presente che ti ascolta. Quindi devi avere questa fiducia, devi essere fermo in questi sentimenti, non ti devi allontanare dalla fede in Dio. Capite perché? Capite perché? E alla fine, vedete qui dice lo sazierò di lunga vita e gli farò vedere la mia salvezza. Alla fine entreremo nel regno dei cieli. Quindi la fine di tutto questo perseveranza nella fede, nella preghiera, nello studio della parola e prima di tutto per non essere smarriti in questa vita e poi per entrare alla fine nel regno dei cieli. Questo è l'obiettivo, il nostro obiettivo. Per fare questo però dobbiamo perseverare perché gli anni passano, puoi intervenire un po' di stanchezza, il mondo ti attira, le difficoltà aumentano, le persecuzioni ci possono essere. Ci sono varie prove che provano ad allontanarti dalla via maestra e dalla comunione con il Signore. Ma tu non lo devi permettere. Cosa devi fare per non allontanarti dal Signore nel tempo? Devi perseverare nella preghiera, in ginocchio, faccia a terra e perseverare nello studio della parola, facendo sempre attenzione a sentire dentro di te che hai comunione con Dio. Perché nel giorno in cui, avendo sempre comunione con Dio, il giorno che non hai comunione con Dio sai che ti devi mettere a posto con lui. Chiedergli perdono, riconoscere nella tua vita se c'è qualcosa che non va, abbandonarla e poi dopo chiedere perdono a Dio e camminare di nuovo come piace al Signore. Ed allora tu sentirai di nuovo la presenza di Dio. Vedete? Studiando, pregando le scritture e in mezzo a tutto questo cosa succederà? Succederà che Dio stenderà le sue ali su di te, ti proteggerà da ogni male. La peste mortifera non ti colpirà né l'influenza né la peste mortifera. Voglio dire, non è che se ti prende un altro tipo di influenza, non è che se ti prende un'influenza dici il Signore non mi ama. No, perché devi anche ricordarti che sei carne e polvere. Allora a volte il Signore permette che siamo colpiti da qualche cosa, perché ci dobbiamo ricordare che siamo carne e polvere, attenzione, perché se no ci sentiremo veramente indistruttibili. Però di quei mali, di quelle pestilenze che veramente ti possono creare notevoli problemi, ecco, se uno è in comunione con Dio non gli accadrà nessun male. Puoi anche essere messo alla prova, come poi è successo a Giobbe, però noi dobbiamo confidare in Dio che secondo la volontà di Dio, secondo la potenza di Dio nessun male ci coglierà, nessuna pestilenza ci può colpire, niente. Però ogni cosa poi dipende dal Signore, ogni cosa è il Signore che la conduce, quindi può avere magari altri motivi, ad esempio qualcuno può essere colpito da una malattia, come è successo a certi servitori di Dio, perché il Signore ha deciso tramite quella malattia di farti entrare nel regno dei cieli. Quindi quello lì non è che è una pestilenza che ti colpisce e Dio non ti ha protetto. No, è che Dio sta riconducendo tutto ai suoi disegni, ai suoi piani e ti sta chiamando qualcuno a sé. Però quello che dobbiamo sapere è questo, il nostro cuore non deve tremare, temere, avere paura di nulla, di nessun uomo, di nessuna pestilenza, di nessun pericolo, anche quello che non vediamo, non dobbiamo avere paura di nulla, perché il Signore è colui che ci protegge, perché abbiamo detto che l'Eterno è il nostro rifugio e l'Eterno ci libera dalla peste mortifera, ci libera da ogni male. E questa era l'esortazione ad avere fede, a non venire meno e a credere in quello che è scritto nella parola, perché il Dio è fedele, il Dio non viene meno, il Dio ha fatto delle promesse, non viene meno e non viene meno per nessun tipo di promessa. Quindi bisogna avere fiducia in Dio, continuare a pregare, continuare a stare in comunione con Lui, a perseverare nel chiedere le cose che desideriamo, perché Dio è fedele, è impossibile che abbia mentito, quello che è scritto si adempirà, come si è sempre adempiuto fino ad oggi, così sarà anche in futuro. A Dio siano la gloria, l'onore e la lode nei secoli dei secoli. Amen.